Arriva la prima sconfitta in questo campionato per il Catanzaro, arriva nel turno infrasettimanale della terza giornata di Serie B. A Cesena si impongono i Romagnoli per 2-0, un gol per tempo ad opera di Carbò e di Adamo. Dopo questa sconfitta credo che, come sempre nella massima umiltà possibile, bisogna cercare di dare delle spiegazioni e di comprendere lo stato dell'arte a pochissimi giorni dalla fine del calciomercato. Io penso che ci siano due tipi di commenti. I commenti fatti con la pancia, in questo momento, specialmente magari al termine della partita, e commenti un po' più di testa equilibrati e diplomatici. Essendo i secondi più positivi, o almeno più alla ricerca di positività, ho deciso di partire più da quelli, tra virgolette, di pancia. Il Catanzaro dell'anno scorso, perché è inutile girarci intorno, è quello il problema, fondamentalmente è quella, la vera tra virgolette è tegola, va cancellato. E cancellarlo è complicatissimo, perché la realtà dei fatti è che un anno che doveva essere complesso, complicato, da neopromossa, e prendo come esempio la reggiana dell'anno scorso come paragone, si è rivelato un anno straordinario, per una neopromossa, che è arrivata quinta, che per poco non arrivava quarta, che è stata anche seconda in classifica, che si è giocata alle semifinali di playoff per salire in serie B, con un organico, non da serie B, non era l'organico dell'anno scorso del Catanzaro, non era un organico fortissimo, sicuramente da quinto posto. C'erano tutta una serie di cose che l'hanno portato a disputare quella stagione. E va cancellato. E interiorizzare sicuramente una stagione difficilissima, complicatissima, alla ricerca di una salvezza che potrebbe arrivare anche all'ultima giornata, anche ai play-out, diventa difficile. Sicuramente, come ho spesso detto, la serie B è da difendere a denti stretti, per una piazza come Catanzaro, che, escludendo 2004-2005-2005-2006, con due anni di serie B agonizzanti, veniva da decenni di serie C. Quindi va difesa a denti stretti. Partendo dalla testa, si sta rischiando grosso. Si sta rischiando grosso perché, se in serie B ti presenti con le briciole, o prendi giocatori in prestito, così come ne sono arrivati, scommesse, giovani dal punto interrogativo, che non sono nemmeno i tuoi, ma che al massimo fai crescere per altre squadre, e rischi di dilapidare quel grandissimo entusiasmo che la piazza ti ha dato anche con oltre 5.000 abbonamenti. Perché questo è quello che voglio sottolineare. Perché è facile, in questo momento, andare dall'allenatore e dire siamo al 29 agosto oggi, la squadra non ha un minimo di identità di gioco, è difficile vedere qualche passaggio di fila insieme, tranne se si parte dalla difesa con una manovra lentissima, andrebbe più veloce una tartaruga che la palla dei difensori del Catanzaro che fanno il giropalla. È facile, in questo momento, prendere la sala così. Io dico che la confusione, in questo momento, dell'allenatore, sta che arriva un allenatore con in testa un modulo, giusto o sbagliato che sia, è quello il modulo che ha in testa l'allenatore, e si trova costretto, dopo le amichevoli, dopo la Coppa Italia, si trova costretto a metà agosto, alla vigilia dell'esordio in serie B, dove le partite che contano, si trova costretto a cambiare completamente modulo, a ridisegnare la squadra, perché non ha i giocatori adatti per quella che ha la sua idea, giusto o sbagliata che sia, di gioco, e qua non c'entra tanto l'allenatore, c'entra chi gliel'ha portato i giocatori, ma più che chi gliel'ha portato i giocatori, c'entra chi ha messo il direttore sportivo ad operare, perché io credo che, faccio un esempio molto estremo, anche Marotta, che in questo momento è il direttore dell'Inter, farebbe fatica se si trovasse ad operare con le briciole, non è più la serie C, e la serie B va tenuta a denti stretti, e chi comanda ha deciso di voler giocare con il fuoco, è semplice, cioè è molto semplice la cosa, chi comanda ha deciso di prendere quell'entusiasmo che si era creato, e di rischiare grosso di buttarlo al vento, perché ha conferito briciole a chi deve fare il mercato, perché ogni giocatore che deve prendere il catanzaro, sembra una telenovela, e si finisce per prendere giocatori in prestito, quindi con il rischio di non costruire nulla, e di, che cosa? L'anno prossimo ritrovarsi a dover fare una nuova rifondazione, perché tutti i giocatori che ti prendi, a giugno dell'anno prossimo, se ne andranno, la maggior parte, lo stesso buso che l'ultimo è arrivato, a titolo temporaneo. Si sta trattando da quello che ho capito, l'amantia, a titolo temporaneo. Forte o scarso che sia. Quindi, per analizzare come andrà la stagione, il primo a cui porre domande sul voler veramente rischiare con il fuoco è chi comanda, a cui vanno, ovviamente, penso, i ringraziamenti di tutta la piazza per aver salvato il Catanzaro, per averlo portato in Serie B, ma la Serie B non è la Serie C. E quindi, o ci si mette in testa, in questi ultimi giorni, di mettere sul piatto offerte alle quali i giocatori non possono dire di no, oppure il rischio sarà di dilapidare l'entusiasmo e di fare un campiato agonizzante nella speranza di ottenere una salvezza che ad oggi diventa molto difficile. Sempre ragionando, tra virgolette, ragionando con la pancia, l'allenatore che è stato preso deve un attimino crescere perché oltre ad essere in totale confusione in questo momento e costretto a cambio modulo e quello che si vuole, la squadra ancora al di là di palla lunga a Pittarello perché questo, il Catanzaro ieri ha fatto questo, fraseggi lentissimi dietro, Gesena che ti viene a prendere a uomo sfruttando la lentezza di quel gioco e appena possibile palla lunga a Pittarello che si deve abbracciare con i difensori avversari nella speranza di fare sponda e fine. Non si è visto molto altro. Per non parlare dei gol subiti che erano del ridicolo, più cattiveria, serve più cattiveria. È stato preso un allenatore che la cui storia recente cosa dice? Dice di aver perso due derby sulla panchina del Cosenza e che a livello di testa quella squadra dell'anno scorso del Cosenza patì terribilmente quei due derby e l'allenatore non fu in grado di riprendere la squadra se non dopo molte partite all'andata e di aver chiuso con l'esonero nel ritorno. L'approccio sbagliato di cui parla Caserta ai due tempi non è né colpa mia né colpa di chi mi sta ascoltando è colpa tua. Se la squadra di 29 agosto dopo oltre un mese e mezzo che tu stai lavorando sbaglia gli approcci e vuol dire che tu di testa non riesci ad agire. Questi sono secondo me più che altro i commenti di pancia che ovviamente sono tra virgolette duri ma vanno fatti perché poi è facile in questo momento scadere tra virgolette anche nel ridicolo come commenti. Commenti più di testa più equilibrati è secondo me da prendere anche molto in considerazione sono sul fatto che siamo ancora al 29 agosto e molti dei giocatori arrivati Buso Sec lo stesso Cassandro vanno un attimino tra virgolette aspettati ho detto che secondo me c'è bisogno di tempo per vedere il vero Catanzaro mi auguro e spero che non sia questo c'è bisogno di tempo c'è bisogno di equilibrio c'è bisogno di aspettare questa squadra perché per tutte le ragioni che ho detto di pancia vanno prese con la testa ovvero bisogna attendere che si amalgami la situazione che si amalgami la squadra che si interiorizzino gli schemi dell'allenatore perché poi io credo che questo 3-5-2 sia temporaneo e possa virare verso quella che poi è l'idea di gioco di caserta sicuramente si attendono delle risposte e una reazione con la Carrarese parete che è assolutamente da vincere non importa come credo che il Catanzaro a questo punto in questo avvio abbia bisogno soltanto di vincere poi come lo si commenta dopo e poi credo che siano fondamentali quei giorni di pausa per le nazionali per far lavorare la squadra per farsi conoscere seriamente con il mercato finito con i giocatori arrivati nuovi avere quindi quel tempo a disposizione per comprendere le difficoltà di questa stagione abbracciarle farle proprie e lottare per raggiungere quella salvezza come ho detto è troppo importante da raggiungere perché poi una salvezza non vuol dire vincere tutte le partite una salvezza vuol dire fare un campionato molto altalenante molto deficitario dove perdere a Cesena contro una squadra in pieno entusiasmo va dato per scontato o almeno va considerato io alla vigilia ero convinto che ieri Catanzaro sarebbe ritornato da Cesena senza punti ma questo credo che lo sapevano in tanti probabilmente in tanti speravano in una reazione ma la reazione non c'è stata perché è facile commentare dopo il Sassuolo grande Catanzaro contro una squadra retrocessa quindi blasone motivazione una squadra che è aperta in casa già contro la Juve Stabia si erano intraviste delle difficoltà già si era visto attraverso un passo indietro una squadra equilibrata entusiasmo più di categoria che si conosce Cesena Idem quindi credo che bisogna dare tempo credo che bisogna dare tempo prima di dare valutazioni definitive non può essere quello di ieri il Catanzaro di questa stagione perché se è quello di ieri la salvezza sarà veramente complicata però per concludere bisogna abbracciare le difficoltà di questa stagione credo per perché poi alla fine il risultato finale è la cosa più importante e bisognerà mantenere questa categoria sono gli ultimi giorni di mercato io sono un po' sbalordito perché non si sta parlando di prendere nessun difensore non vedo non sento nomi riguardo trattative su centrocampisti specialmente di legna specialmente che facciano legna a centrocampo questa squadra ha bisogno di equilibrio e non si può pensare che Petriccione regga 38 partite ha bisogno anche lui di un sostituto decente insomma credo che in questi ultimi giorni di mercato se si vuole tra virgolette salvare questo Catanzaro ed evitare troppe sofferenze credo che bisogna mettere sul piatto delle offerte che in questo momento diverrebbero tra virgolette irrinunciabili per i giocatori perché altrimenti il rischio è che continui a presentarti con le briciole e che poi i giocatori preferiscono altre destinazioni a meno che quelli che ti accordi per un prestito situazione molto difficile specialmente alla luce dei due anni di entusiasmo che ci sono stati qui a Catanzaro però la concludo così bisogna abbracciare quelle complessità di questa stagione e cercare di salvare il salvabile